Qui a CIRV stiamo partendo con un'iniziativa molto importante per la riabilitazione internazionale. Partiremo con un progetto per omogeneizzare i sistemi di valutazione e il modo di definire il progetto riabilitativo in tutta Europa. Il progetto parte adesso definendo un documento, quindi una strategia d'azione dove verranno definiti i gradi di qualità nella mobilazione del progetto e poi si partirà con una parte sperimentale in alcuni paesi per vedere la fattibilità dell'implementazione.